Ciao a tutti ragazzi, oggi confrontiamo il Garmin Fenix 7X con il Coros Vertix 2. Orologi top di gamma, orologi che hanno 50.000 funzionalità, che hanno anche un bel prezzo e vedremo quale ha senso più acquistare. Iniziamo subito parlando della gamma. Beh, Coros Vertix 2 è molto semplice, esiste solo lui. Non esistono altri orologi, esiste una versione precedente, esiste in due colori, ma non ci sono altri orologi, solo lui. Garmin Fenix 7. Beh, di qua di versioni ne esistono tante, esiste la versione 7, la 7X, la Sapphire e la 7S. Sono versioni da 47, 51 mm e 42 mm. Di tutti di più, anche per quanto riguarda i colori dei cinturini, cambia pochissimo per quanto riguarda le specifiche. Diciamo che qua c'è un pochino più da poter decidere in base alle dimensioni del proprio polso, dell'orologio, cosa si desidera spendere, che prestazioni della batteria vogliamo e via dicendo. Quindi già in questo diciamo che Garmin è decisamente più personalizzabile. Iniziamo col parlare della costruzione. Sono due orologi che si assomigliano veramente tanto. Orologi di qualità premium, tutte e due. Il Coros Vertix 2 ha il vetro zaffero, cosa che il 7X non ha, ma c'è la versione Sapphire. Sono orologi che, di grandezza, confrontato col 7X, sono abbastanza uguali. Sì, il Coros è un millimetro più piccolo e pesa un pochino di meno. Però vi dico la verità, non che il millimetro in meno e i 5 grammi di differenza io riesca a sentirli sul polso, però questo orologio a livello di costruzione, beh, lo rende molto meno mattoncino rispetto al Fenix. Non so perché, non solo per quale motivo, ma questo riesco a portarlo molto più facilmente al polso rispetto che il Garmin. E questo qua, come vi ho raccontato nella recensione, mi dà fastidio. Ogni tanto mi viene veramente voglia di toglierlo perché mi dà fastidio. Sempre per quanto riguarda la costruzione, entrambi hanno dei display fatti veramente molto molto bene. Forse il Vertix ha un display migliore per quanto riguarda la resa cromatica e la risoluzione. È un display in generale che sono entrambi touch screen. L'unica cosa è che il Fenix 7 ha il touch screen che si può utilizzare praticamente sempre, in qualsiasi schermata noi vogliamo. Il Vertix, invece, il touch screen può essere utilizzato solamente nelle schermate decise da Coros. Faccio un esempio, nel widget all'inizio, sotto la schermata principale dell'ora, nel Fenix si può usare il touch screen, nel Coros no. Veniamo a parlare dei sensori. Allora, per quanto riguarda i sensori giroscopio, bussola, altimetro, barometro e via dicendo, performano entrambi perfettamente, non hanno nessun problema, sono praticamente equiparabili. Veniamo alla frequenza cardiaca e il GPS, che sono le cose che più cambiano. Frequenza cardiaca funzionano bene entrambi se andiamo a fare un'attività, diciamo, abbastanza regolare. Quindi con un battito che sta più o meno sempre attorno a una certa soglia. Se invece andiamo a fare allenamenti quali ripetute, fartlec, cambi di passo, dove quindi la frequenza cardiaca tende a fare su e giù, diciamo, ad aumentare e diminuire, beh, il Fenix 7X è sicuramente migliore perché ha una risposta sul secondo decisamente più rapida. Questo capisce prima quando la frequenza cardiaca va ad abbassarsi e ad alzarsi, mentre lui gli ci vuole un po' di più. Quindi proprio per la frequenza cardiaca al secondo, Fenix 7X vince. Se invece andiamo ad analizzare il GPS, parliamo di GPS normale innanzitutto. Beh, io ho trovato che il Coros risulta essere più preciso rispetto al Garmin. Utilizzandoli entrambi nella stessa attività, noto che il Fenix è un pochino più dispersivo, soprattutto sotto gli alberi in condizioni un pochino particolari. A campo aperto funzionano bene entrambi. Ma dove la situazione diventa un pochino più difficile, il Coros ha una risposta migliore. Teniamo conto poi che il Coros ha anche la versione Dual Band, cosa che il 7X non ha ma che ha la versione Sapphire. Questi non vado a confrontarli perché non avendolo io sulla versione 7X non posso confrontarli naturalmente. Altra cosa da aggiungere che il Coros ha anche l'elettrocardiogramma, anche se, come vi ho raccontato nella recensione completa del Coros, non ha implementazioni particolari e muore un po' lì. Tutti questi sensori, sia per quanto riguarda il Garmin che il Coros, vanno a darci un sacco di informazioni. Training status, training effects, recovery, previsioni in ritmo maratona e via dicendo. Dal punto di vista dei dati forniti sono praticamente equiparabili. L'unica cosa che cambia è come vengono visualizzati all'interno dei siti. Su Garmin abbiamo Garmin Connect e su Coros abbiamo il Coros Training con Coros Evolab. Non sto qua a descrivervi lì perché sennò diventerebbe un video lunghissimo. Fatemi sapere nei commenti se vi può interessare un confronto tra le due piattaforme, quindi Garmin Connect e Coros Evolab. Dai che magari facciamo un altro video. Vediamo a parlare della batteria. Innanzitutto il Garmin Fenix 7X ha la ricarica solare che, essendo anche lo schermo della versione X più grande, è anche più prestazionale per quanto riguarda la produzione di batteria. Iniziamo a parlare del Garmin. Se utilizzato in modalità sportwatch con qualche ora di allenamento alla settimana, arriva a durare 28 giorni, con l'aggiunta di almeno 3 ore di ricarica solare al giorno 35. Per quanto riguarda invece la modalità solo GPS, arriviamo ad avere 70 ore di autonomia e se aggiunta la ricarica solare sfioriamo le 100. Parliamo del Coros. Coros in modalità stand-by con qualche ora di allenamento al giorno, sfioriamo tranquillamente i 35-36 giorni. Solo GPS sfioriamo le 125-130 ore. Invece dual-band arriviamo a 45 ore di autonomia. Per quanto riguarda la batteria, quindi sicuramente vince il Coros, perché è dati alla mano una batteria molto più prestazionale. Ricordo però che Garmin dà la possibilità di poter andare a scegliere quali sensori tenere attivi o quali no. Ha un buon power management, che è anche facilmente consultabile e utilizzabile, cosa che il Coros invece non ha. Parliamo ora delle mappe. Funzionano bene su entrambi? Sono precaricate su entrambi? L'unica cosa che vado a segnalarvi è che le mappe di Coros sono veramente molto molto semplici. Non hanno indicate vie, punti di interesse, nomi dei monti, niente. Le mappe del Fenix invece sì, hanno indicate le vie delle strade, i nomi dei monti, delle località, i punti di interesse, eccetera. Questo, dico la verità, è molto utile perché se noi dobbiamo girare in qualche via e sappiamo il nome della via, andandola a leggere in alto dove c'è l'indicazione, riusciamo a capire che stanno prendendo la via giusta. È una cavolata, però questo ne facilita veramente molto l'utilizzo del Garmin. Parlando sempre di mappe e navigazioni, però il Coros ha una grande mancanza, ovvero non ha la possibilità di andare ad aggiungere applicazioni terze come Komoot o Strava. Quindi, se vogliamo aggiungere percorsi terzi, il Coros dobbiamo prendere il file GPX puro, metterlo sul nostro telefono e andarlo a importare qua dentro. Per quanto riguarda il Garmin, invece, se noi andiamo a impostare un percorso tramite Strava o Komoot, tramite l'applicazione interna che noi abbiamo utilizzato, possiamo andare a ritrovarlo e a scaricarlo direttamente qua dentro, senza dover fare giri strani. Parliamo ora della parte smart di questi due orologi. Il Coros è molto semplice, nel senso che notifiche e messaggi non possiamo rispondere. Per quanto riguarda la musica possiamo metterla su solamente utilizzando il file MP3 puro caricato qua sopra tramite computer. Per quanto riguarda invece il Fenix, beh, si apre un mondo. Questo perché, oltre a un'implementazione di app terzi di cui parliamo dopo, qui abbiamo la possibilità di andare a pagare con l'NFC, poter rispondere ai messaggi con dei messaggi preimpostati. Abbiamo la possibilità di avere altre funzionalità in più attraverso l'applicazione Connect IQ. E qui, appunto, a questo punto vengo a parlarvi di applicazioni terze, nel senso che, come vi dicevo, ad esempio tramite Komoot e Strava, per quanto riguarda il caricamento di percorsi, sicuramente con Garmin è molto più facile. Però anche la musica. Qui abbiamo un'implementazione di Spotify e Amazon Music da poter gestire direttamente qua sopra. E davvero tramite l'app Connect IQ possiamo andare ad aggiungere moltissime altre applicazioni per farsi di renderlo ancora più smart, cosa che il Chorus non ha. Quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda la parte smart, e le applicazioni terze vince a mani basse in Garmin. Come ultimo punto parliamo della possibilità di aggiungere sensori terzi. Entrambi hanno Bluetooth, però Garmin supporta anche l'Anti Plus come protocollo, Chorus no. Questo può fare una davvero differenza tra quale scegliere e quale comprare, perché tantissimi sensori funzionano solo con Anti Plus e Chorus non li supporta. Vi faccio un esempio. Sensori di velocità della bici, sensori di cadenza, i pedali che si utilizzano in bici per andare a rilevare anche quanta potenza si sta a esprimere, vanno quasi tutti con Anti Plus. E su Chorus non si possono aggiungere, su Garmin sì. Quindi anche qua vince Garmin. Perciò veniamo alle conclusioni. Qual orologio ha senso acquistare? Beh, dico la verità, non c'è una risposta univoca. Non posso dirvi ha più senso acquistare il Chorus o il Garmin. Dipende cosa ne dovete fare. Il Chorus è sicuramente un orologio più da puristi. A chi interessa solamente avere il dato, a chi interessa avere un orologio che prende benissimo tutta l'attività, che ha una parte GPS veramente fantastica, ha una batteria super lunga, ma al quale non interessa tutta la parte smart, al quale non interessa poter andare ad ascoltare la musica tramite applicazioni terze, a cui non interessa andare ad aggiungere GPX, e via dicendo. È proprio uno sport watch nudo e crudo. Non è un ibrido, diciamo, come può essere il Garmin tra smart watch e sport watch. Questo è uno sport watch proprio, diciamo, alla vecchia maniera. Per quanto riguarda il Garmin, invece, lo consiglio a chi, oltre naturalmente a tutta la parte di rilevazione di dati dell'attività, non disegna tutta la parte smart, quindi musica, applicazioni terze, poter pagare tramite l'NFC, e via dicendo. Quindi, chi vuole, sì, uno sport watch, ma gli piace anche la parte smart. In generale, però, c'è da dire che sono due orologi abbastanza simili, soprattutto dal punto di vista dei sensori. La cosa che cambia di più, a mio parere, è il prezzo. Il Coros viene venduto a 700 euro, e ha la doppia banda, ha una batteria top, e via dicendo. Il Fenix, invece, parte dai 700 euro anche lui, ma nella versione da 700 euro, la batteria è ancora meno prestazionale, perché è la versione base, non abbiamo la doppia banda. Se invece vogliamo avere un orologio casa Garmin, molto simile, il più simile possibile al Coros, allora dovremo andare a prendere la versione 7X Solar Sapphire, che ne costa mille. Quindi, diciamo che, se vogliamo avere due orologi praticamente identici, ci sono un 300 euro che ballano tra i due. Perciò, ragazzi, nella speranza di essere stato esaurente ed esaustivo, di avervi aiutato a scegliere quali due orologi comprare, io vi ringrazio per aver guardato questo video, e ci vediamo al prossimo. Ciao!